Ciao ragazzi e benvenuti al mio quarto episodio di Live2Commentary Siamo in Boatleg, in Dead Venture Squadre E usiamo un po' la K47 che ho appena sbloccato Sono a livello 68 esattamente Quindi non ho niente come l'MSR nella puntata prima Non ho proprio niente Scorando l'MT MP olografico Dai vieni fuori ci ho visto, stronzo Stardo vieni fuori Oh madonna Salta più di mia nonna sta cosa Il nabo col type Buono, buono Ci sono, eh, non sono morto Allora Ok, allora Vediamo un po' Non penso che cambierò modalità Cioè, allora Se volete Mettetemi nei commenti O un'arma che volete che uso Oppure Una mappa Già, no, una mappa Una modalità che volete che faccio Oppure entrambe Che così Lo rendo anche un po' più divertente E un po' più partecipi anche voi Quindi voi Dite, io eseguo Stardo Ehm Nooo Eh, sono fatto tre uccisioni Strano Pensavo di essere già il Predator Devo sbloccare il silenziatore Il post-arma Wow Ti ho trappanato la vita Assistenza Dovrebbero fare come in Black Ops Se fai assistenza Cioè Se lo mandi a terra Ricordi I punti I punti I punti I punti Vengono a te Non a quello che te l'ha ammazzato Quando era morto È vulnerabilissimo No? Cioè, perché se no Non ha senso Eccolo Lo stealth Così piano Questo va come Forse Mi restabile Allora Ecco Quindi Voi Chiedetemi Io Faccio Tutto quello che volete Allora Questa che cos'è? Questa è trappola No Attacchiore Deppicito Dovrebbe essere Trappola Via 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 Stronzo Venga Sono un demente Sono un demente Però Attacco aereo di precisione Non dovrebbe essere Trappola In realtà Mi metto in testa Non devo piani Sono cassa Eh ma mica Io lo risparo E non muore Cos'è? Oh il Daggernaut Oh madonna Che palle Eh aspetta C'è un Daggernaut Che Noi comuni mortali Cristi Oh vabbè Tu sei qua Fermo Fermo Stai fermo Stai fermo Uno Dove cavolo Boh Mi sa che il Daggernaut Muore lì Ci resta secco No è riuscito a scampare Incredible Soccorritore Ok raga Anche questa partita è finita Ha durato poco Peccato 5 minuti 50 Eh 6 minuti Beh la prossima volta Faccio una Kill confirm Così almeno Dura un po' di più E Beh Grazie a tutti ragazzi Di aver guardato Mi raccomando Mettete mi piace E commentate Ciao a tutti